Musica Ciao Nuovo video All Dal ritorno Al futuro Dal ritorno dal mare E abbiamo trovato la pasta Veda di pochettini di Aliexpress E quindi andiamo ad aprirli Questa luce Dobbiamo Dobbiamo prendere qualche pannello Diffusore Vai, cambiamo inquadruttura E vediamo cosa c'è dentro Allora, 5 pacchettini Iniziamo Che apriamo assieme a voi Quindi non sappiamo cosa c'è dentro Sì, tranne la parte che si legge Sì Però non l'ho letta Va bene? Allora andiamo ad aprire Oh 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 Perché puzzano i pacchigliari Sembrano tutti i pacchi della pattumiera Sì ma poi puzzano I vecchi pacchineri dell'indifferenziata Eeeh Mitico Allora questo è un timbrino Aspetta facciamo così Così Che serve per fare il calendario settimanale Troppo figo Vedi? Bello 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 C'è anche l'orologino Con l'orologino E poi c'è ogni settimana Che inizia da martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Così va bene per qualsiasi mese Ficchissimo Allora tutti i link di queste cose sono nell'info box Nell'info box ovviamente Secondo pacchettino Ah quello lì ci ha messo un secolo ad arrivare Quello di Dio Io non mi ricordavo neanche che l'avessimo ordinato Mmm Quindi vogliono già 5 stelline Questo è roba tua Ah sì Questa è la protezione Per la videocamera Posteriore Del telefonino Mmm Qua mi ci diverto io Auguri Non ci sono altre istruzioni No no Molto bene Deveva essere una cosa assolutamente Inutile Evidente Inutile E immediata Nel suo C'è la Sto specie di pallino Il pallino da mettere sull'obiettivo Per proteggerlo dai graffi E gli sticker guida Poi Qua sembrano penne Mmm Sì Dalla palpagione Quello grosso lo lasci per ultimo Viene Sì Come in regale natale Sì Poi ovviamente il coloro rosso è più deludente Sì Quella Quella Che cos'è Penne Figo No aspetta Sì Figo Allora Figo 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 Sono E qui anche mio marito ora capirà Allora Tre penne Per il brush lettering Sì Io li provo da tutti Praticamente Queste tre Di tre misure differenti Quindi Ed ecco Tic 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 E tic Grande Media E piccola Ecco perché non li avevi voluti comprare in cartoleria al mare Perché sapevi che sarebbero arrivati da Aliexpress 20 mila di Aliexpress Vediamo come funzionano queste se hanno una punta più dura E poi ho comprato questi che guarda che sono dai dai che ci arrivi dai 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 Sembrano dell'eyeliner Eh sono Del rapidografo Bravo Con le varie misure Punta sottilissima da 0.05 Da 1 Non scriveranno fighi Vediamo E hanno risentito del viaggio va bene Da 2 Vedi Da 2 scrivi di più Eh perché è più spessa Da 5 Vedi Fighi E questo mi sono svenata A scuola le usavamo per scrivere sui fogli di acetato Infatti Disegni tecnici da 8 e da 0.3 L'unico che non ho provato è 0.5 0.5 Cioè il più merdoso è da 0.1 Aspetta E' talmente sottile Inumediscilo con la lingua Vedi? Vedi che funziona Sì dai Sì secondo me funzionano tutti Fighissimi Fighi 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 Poi Cos'è una spatellata di soldi Da All'università Invece qua Super mega risparmio Durranno anche una frazione Di quello che duravano quelli originali Oh no li avevo se sono seccati E qui cosa c'è? Oh timbrini Quella Ma che piccoli Pensavo che fossero più grandi Questi li ho ordinati da poco Allora sono timbrini Ovviamente a micio Micio e pesciolino Questo è un micio e pesciolino Poi c'è Se fai così li vedi meglio vero? Micio e pesciolino Poi c'è Micio e trenino Con i tupini Oh mi avevo Bello Poi c'è Micio Tupini E fiorellini Questi mi ricordo L'ho poi a pieno di 81 E pensavo fossero più grandi Vabbè Ciao Sono quelle cose che dicono Ed ora il pezzo forte Non è quello che credevo che fosse Secondo me Speriamo non sia una delusione Infatti non è quello che credevo che fosse E' roba tua Roba mia I nerf I proiettili dei nerf I proiettili I appiccichini I appiccichini dei nerf Uno stock di proiettili E questi non li trovate in giro Bisogna ordinarli suoli express Facciamo che ne tiro fuori Dovrebbero avere una ventosa Alla sommità Che No Beh dovresti provare A spararlo No Sono superficie lisce E questa non è liscia Non abbastanza Non può far presa Che potenza Comunque sono questi proiettili Con la ventosina Cos'è uno stock di proiettili Pensavo che fosse il fimo C'è il fimo che è arrivato da Mu E vabbè Non so che fine abbia fatto Molto bene Molto bene Ok Abbiamo terminato questo video Alla Tutti i link nell'info box I prezzi nell'info box Ciao Alla prossima Iscrivetevi al canale Ciao Ciao